In un lungo documento il Comitato per gli usi civici spiega perché è stata avviata la petizione popolare per chiedere il commissariamento dell'Università Agraria. Rossana, Corrado e Cristian Bufi sono l'assessore all'urbanistica e quello alla cultura annunciate dal candidato sindaco Petrelli che continua a presentare in anticipo la squadra. Inizieranno le 10.30 le celebrazioni istituzionali per la festa della liberazione, ai 10 da Piazza Regina Margherita a Via Alcorteo, alle 11.30 l'omaggio floreale al monumento a Caduti. Una vera e propria invasione di due ruote al porto di Civitavecchia è calata a Principe Tommaso a ospitare la nuova edizione del moto e del Vespa Raduno. La compagnia portuale Civitavecchia non sbaglia, c'entra la finale di Coppa Italia di promozione, forti del 6 a 1 dell'andata, i rossi bloccano sullo 0-0 il 6. Buonasera e ben trovati dal TRC Giornale, ormai è guerra dichiarata, il Comitato per osi civici in un lungo documento spiega le motivazioni che lo hanno indotto ad avviare una petizione popolare per chiedere, come previsto dallo Statuto Comunale, il commissariamento dell'Università Agraria. Tante le accuse lanciate all'ente di Viale Baccelli, come sentiamo nel nostro servizio, ma vediamo. Condividiamo l'affermazione dell'Università Agraria, secondo la quale per risolvere la vicenda sono necessarie collaborazione e serenità, ma non è facile essere sereno per chi vede messo in discussione per anni il diritto di proprietà della propria abitazione. Inizia così un lungo intervento del Comitato usi civici, che sostiene di voler puntualizzare alcuni aspetti che a suo giudizio sembrano sfuggire ai dirigenti dell'ente di Viale Baccelli. Anzitutto la perizia del consulente tecnico d'ufficio, ovvero il perito del giudice, che per il Comitato sembra aver messo una pietra tombale sulla asserita esistenza degli usi civici sulle terre della bandita delle mortelle. Va poi detto, prosegue la nota, che anche le perizie dei ricorrenti e quella del Comune concordano sull'assenza di usi civici, mentre la sola Università Agraria ha emesso due perizie diverse, ma entrambe con centinaia di ettari di demanio su terreni densamente edificati. Ed è per questi motivi, secondo il Comitato, che l'ente continua a rinviare quanto più possibile la sentenza, come dimostrato dalle dichiarazioni del suo legale nell'udienza del 18 aprile. Aspetti di carattere procedurale che hanno di fatto portato al rinvio della sentenza. Per il Comitato ancora non ha poi senso l'osservazione dell'Agraria, che eque soluzioni sarebbero interrotte da un avacazio legis. La sentenza della Corte Costituzionale del 2018 non ha infatti determinato nessuna sospensione legislativa, visto che la legge 1766 del 1927 e il relativo regolamento sono pienamente in vigore. Il Comitato spiega poi i motivi che lo hanno portato a lanciare la petizione nella quale si chiede il commissariamento dell'ente, parlando di scelta ponderata, volta a fermare le azioni portate avanti dall'Agraria, che a suo giudizio persegue obiettivi diversi e per cercare vie di fuga prende tempo. Annuncia quindi che andrà avanti sino in fondo nel supportare e difendere gli interessi della collettività e delle attività commerciali danneggiate, nella certezza che non sia giusto consentire all'ente di Viale Baccelli, rappresentante di un numero limitato di soci, di condizionare così gravemente la vita dell'intera collettività. Tarantino forse dimentica che i partiti e i movimenti che lo sostengono sono gli stessi che hanno festeggiato insieme all'indomani dell'elezione del presidente dell'Università Agraria De Paulis e dimentica anche che è sostenuto dal PD, che Nicola Zingaretti è il governatore della Regione Lazio, il segretario nazionale del PD e che la Regione ha gravissime responsabilità in questa materia. È la risposta del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Emanuele Larosa, in merito alla richiesta del candidato sindaco del centrosinistra di un incontro congiunto con tutti i candidati sindaco sul tema usi civici. Larosa spiega che una soluzione già c'è, ovvero che gli usi civici si spostino in via conciliativa alla frasca con l'impegno dell'Università Agraria a mantenerla pulita, disponibile e inconciliabile. Sull'argomento il Movimento 5 Stelle ha le idee molto chiare, afferma Larosa, ed è disponibile a illustrarle anche agli altri partiti che fin qui hanno invece avuto un atteggiamento ondivago poco chiaro e molto probabilmente poco informato. Inizia la campagna elettorale, cominciano ad arrivare i primi big dei vari partiti. Sabato prossimo alle 11 in corso Centocelli, il segretario nazionale del PD e attuale governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, aprirà ufficialmente la campagna elettorale del centro-sinistra del candidato sindaco Carlo Tarantino. L'esponente dei 5 Stelle, Gianluigi Paragone, sarà invece a Civitavecchia il 2 maggio per la campagna elettorale a sostegno della candidata sindaco del Movimento, Daniela Lucernoni. Sarà poi la volta del vicepresidente della Camera, Mara Garfagna, che sabato 4 maggio aprirà la campagna elettorale del candidato sindaco del centro-destra, Ernesto Tedesco. Ed è in arrivo il giorno più atteso per iscritti militanti e simpatizzanti della Lega. Mercoledì 1 maggio, Matteo Salvini è infatti atteso a Civitavecchia, come annunciato dal coordinatore della lista per le prossime elezioni comunali, Enrico Zappacosta. Abbiamo avuto dal nostro leader Salvini la conferma che intende venire al più presto a Civitavecchia, supportare la lista a Lega con Salvini, il nostro candidato a sindaco Ernesto Tedesco e tutta la coalizione che lo sostiene, afferma Zappacosta. Perciò è con piacere che estendo l'invito ad essere in Piazza Fratti dalle 18 del 1 maggio a tutta la coalizione che appunto lo sostiene. A 48 ore dal termine fissato per la presentazione dei candidati a sindaco e delle liste a sostegno con tanto di firme, entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative del 26 maggio che si svolgeranno in concomitanza con le europee. Questa mattina il candidato sindaco del cosiddetto campo civico, Vittorio Petrelli, ha presentato due membri della Giunta che guiderà qualora fosse eletto primo cittadino. Ma sentiamo. Rossana Corrado a disposizione nella squadra di Vittorio Petrelli, in particolare, viste le sue competenze, sarebbe l'assessore all'urbanistica qualora Petrelli fosse eletto sindaco, perché la scelta di scendere in campo qua a Civitavecchia? E poi, altra domanda, si ha visto già quali sono le criticità maggiori della nostra città a livello ovviamente urbanistico. Dunque, io innanzitutto scendo in campo, perché me lo chiede Vittorio Petrelli, una persona della quale ho piena fiducia, e per senso civico, perché letteralmente, in quanto io non mi schiero politicamente, sono un tecnico, faccio il mio lavoro in urbanistica da una serie di anni, sia all'interno dell'amministrazione che fuori, ho avuto degli incarichi politici, però ecco, sempre da tecnico, ovviamente porto la mia disciplina all'interno dell'amministrazione, il mio sapere a servizio dell'amministrazione. Per quanto riguarda Civitavecchia, qualcuno potrebbe dire, si tratta di una persona che non è di Civitavecchia, non è originaria di Civitavecchia, non vive a Civitavecchia. Beh, io penso che, come dire, trattasi di una materia, ripeto, molto tecnica, per cui come il medico non deve aver avuto tutte le malattie per saper curare un paziente, forse è meglio anche che il medico sia distaccato, in un certo senso, dal paziente, perché in questo modo riesce meglio a verificarne i problemi, a capire quali sono le soluzioni più adatte per risolvere proprio il problema. Diciamo che lo sviluppo sostenibile, detto così, sembra uno slogan, trito e ritrito, però cerchiamo di farlo ricadere proprio sul territorio di Civitavecchia, in programmi concreti, in proposte di, appunto, urbanistiche che possono avere un effetto sull'economia locale, sull'incentivo all'impresa locale e all'artigianato del luogo. È la volontà, soprattutto, di fare veramente qualcosa per la cultura di questa città, che è stata... cioè, per riscoprirla, tante cose che si sono perdute negli anni, tra cui, per esempio, è il titolo di città del libro. Noi eravamo una città che era inserita in un circuito anche importante, perché non è un nome e basta, fa parte di, appunto, dicevo, un circuito, ma muove gente, quindi anche soldi e turismo perduto. Quando noi abbiamo autori che pubblicano ogni sei mesi, abbiamo poi Tolfa, invece che ha questo titolo, ora per carità, ben venga per Tolfa. E questa è una delle tante cose, per esempio quella, ma ripristinare, per esempio, il venerdì del Traiano, è impensabile che un teatro dica chiudiamo i battenti perché non ci stanno i soldi. Soprattutto dobbiamo cominciare a pensare che siamo nel 2019 e dire che con la cultura non ci si mangia è da barbari. E i barbari, purtroppo, hanno passato il loro tempo dire alle persone come succede ora, vai dall'assessore alla cultura, non ci sono i soldi, ecco, fate la stessa cosa allora anche con i vostri figli. Quando devono andare a scuola, ditegli non c'hai i soldi, mamma e papà, per mandartici e te mandiamo direttamente a scavare le pietre perché è questo quello che vogliono ancora prospettarci. Inizia un intervento di pulizia delle spiagge pubbliche cittadine promosso dall'assessorato al turismo, alla marina. L'intervento è iniziato ieri e si proterrà fino al prossimo 4 maggio. Al Pirgo avrà inizio sabato prossimo e durerà fino al 4 maggio mentre al Marangone si svolgerà dal 2 all'8 maggio. L'operazione sarà effettuata a cura del servizio edilizia e patrimonio di Palazzo del Pincio. E domani in occasione della festa della liberazione il Comune di Civitavecchia ha programmato le celebrazioni che si apriranno alle 10.30 sulla mediana con la deposizione di una corona in ricordo dei martiri delle fosse ardiatine in prossimità del semaforo su Viale Giacomo Matteotti. Una corona sarà poi deposta alla lapide dedicata ai perseguitati politici antifascisti presso la casa di reclusione di Via Tarquinia. Si proseguirà con un omaggio floreale in ricordo di Giacomo Matteotti in Viale Garibaldi. Alle 11.30 si terrà la cerimonia in Piazzale degli Eroi con la deposizione di una corona al monumento ai caduti e onori militari. Ricordare il 25 aprile non è soltanto rispetto nei confronti di chi ha lottato e ha dato la vita per la sua patria ma è anche dare importanza a quei valori di libertà e di democrazia che in questo periodo storico molti sembrano aver dimenticato. Il candidato sindaco Carlo Tarantino conferma la sua piena partecipazione al programma della manifestazione di domani della neocostituita sezione Ampi di Civitavecchia. Alle 10.00 l'appuntamento è sotto il busto di Pietro Gori a Piazza Regina Margherita per poi dirigersi accompagnati dalla banda musicale al monumento a largo degli arditi del popolo dove sono previsti alcuni interventi pubblici. Il corteo raggiungerà a Piazzale degli Eroi al monumento dei caduti dove sarà deposto un omaggio floreale e tutto si concluderà a Casal Cultural di Allumiere nella frazione della Bianca. La banda musicale Puccini cambia la sua divisa è un contributo alla banda musicale che vanta una lunga tradizione nella nostra città è stato concesso dalla fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia questa mattina nel corso di una conferenza stampa abbiamo ascoltato il presidente della fondazione Cari Civ Gabriella Saracco e il presidente della banda Puccini Rita Busato proprio in merito all'acquisto delle nuove divise ma sentiamo Ancora un progetto da parte della fondazione per sostenere la cultura di Civitavecchia la cultura da questo punto di vista musicale ne parliamo con il presidente Gabriella Saracco Certamente la fondazione è ben lieta di essere partecipe di questo progetto era da tempo che parlavo con la vostra presidente Rita Busato degli eventi che si svolgono degli impegni che la scuola musicale ha su tutto il nostro territorio quindi quando abbiamo saputo che la banda rinnovata aveva bisogno di essere aiutata per uscire bene negli eventi cittadini sia io che il consiglio abbiamo deciso di essere vicini che importanza ha per la banda avere queste nuove divise si tratta naturalmente di un vestiario rinnovato non al top ma naturalmente perché siamo vicini alla stagione estiva e quindi ci siamo dovuti adeguare e abbiamo avuto il sostegno della fondazione perché c'è stata vicina anche in passato ed è stato molto importante per questo contributo una banda Puccini che lo ricordiamo vanta una lunga tradizione nasce la seconda metà dell'ottocento poi naturalmente gli eventi bellici si interrompe e per ritornare ogni volta si rinnova si rinnova con la presenza di tanti giovani allievi molta presenza femminile ma lo ricordiamo anche tanti professionisti per noi è un grande supporto sia morale che naturalmente economico che è una cosa che non guasta soprattutto quando si sta riformando e ricreando una banda che veramente è il nostro orgoglio da sempre che lo è ancora di più adesso perché vi invito a venirla ad ascoltare perché è piena di ragazzi piena di entusiasmo è come una grande famiglia che è il messaggio che deve arrivare poi dalla banda ha anche deciso di prendere una direzione che può abbracciare molto di più anche i giovani facendo un tipo di musica molto più accattivante ed è una cosa molto importante e grazie anche alla fondazione noi abbiamo potuto fare questo porre anche l'accento sul fatto che anche chi non ha suonato direttamente ha contribuito da tutte le questioni organizzative tecniche e tutto quel lavoro che sta sempre dietro ma che è quello che comunque è legittima e riesce a far sì che tutti quanti possano esibirsi è un piccolo riferimento che volevo fare anche agli altri associati che hanno dato anche se non in maniera visiva e palese un grosso contributo Presidente Presidente lei ci voleva far vedere qualcosa della banda vero? naturalmente ecco non poteva mancare il riferimento al contributo della fondazione ci tenevamo a pubblicizzarlo è un supporto notevole ecco noi lo abbiamo limitato per questa volta alla spilla che mettono i nostri ragazzi che si esibiscono anche domani lo ricordiamo il 25 aprile anche il 28 per Santa Fermina ebbene oltre allo stemma avranno anche la spilla della fondazione e intanto esordio ufficiale domani per la banda città di Civitavecchia che sfilerà per le vie cittadine per accompagnare le manifestazioni organizzate dall'AMPI per la festa della liberazione la banda recentemente costituita è composta da oltre 40 elementi verrà diretta dal maestro Francesco Petrosino e seguirà oltre il proprio repertorio di marce l'ino di mameli e bella ciao l'appuntamento è alle 10 in piazza Regina Margherita il corteo percorrerà poi via risorgimento per raggiungere largo arditi del popolo dove si terrà una breve commemorazione poi percorrerà corso 100 celle fino a largo plebiscito i partecipanti raggiungeranno infine piazzale degli eroi dove si svolgerà la manifestazione ufficiale del comune e venerdì prossimo gli uffici amministrativi CSP di Villa Albani di lungo porto Gramsci e i centri di distribuzione per la consegna di kit per la raccolta differenziata rimarranno chiusi gli uffici e i centri di distribuzione dei kit porta a porta di via Terme di Traiano 42 di via Veneto 10b riapriranno regolarmente lunedì con i consueti orari ovvero lunedì mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14 e il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17 nel quadro della giornata mondiale del libro presso la sala conferenze della biblioteca comunale Alessandro Cialdi si è svolto un incontro per promuovere la lettura la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale la giornata è stata celebrata durante il consueto incontro del laboratorio di scrittura creativa tenuto dall'associazione centro incontri culturali con una lettura recitata del racconto giallo a Creta scritto dalle partecipanti al laboratorio le poesie degli iscritti al corso di metrica e i diritti del lettore di Daniel Pennac letta dai soci dell'associazione Il Conservatorio e sono intervenuti per l'occasione la dottoressa Livia Dabegna le professoresse Maria Teresa Serafini e Anna Grazia Zintu il professor Giancarlo Peris la dottoressa Rita Pomi e il dottor Giorgio Zintu Vespe è moto da diverse parti d'Italia e dell'Europa è il risultato della nuova edizione del Motoraduno e Vesparaduno Memorial Brun della Vita Andrea Balloni organizzato dall'associazione motociclistica Civitavecchiese è in corso al porto di Civitavecchia ma vediamo e siamo qui all'interno del porto iniziativa del Vesparlab CIE che è un motoristico CIE e Chiese siamo con alcune delle persone arrivate qui dalle varie parti d'Italia ma anche d'Europa c'è Dino Napoletano anche Tedesco io sono del Vespa Club Hagen e siamo venuti qua per un grande raduno qua di Civitavecchia io sono il socio del Vespa Club Civitavecchia e io parlo per i tedeschi i tedeschi sono in 22 persone sono arrivato con le Vespa e tanti sono caricati con fogone o con carrello e siamo contenti per arrivo per il mio Bruno mio presidente e abbiamo 65 anni anniversario giusto e un grande festa per noi faccio parte del Vespa Club a Dobbiadene e sono venuto giusto mattina fino qui a Trova Bruno il Vespa Club a Civitavecchia hai la prima volta venito a Civitavecchia? no sono già venuto tre anni fa ancora andate spesso in giro per l'Italia? sì a Italia anche a Estero noi siamo venuti io sono venuto ancora lunedì qua per trovare il nostro amico Bruno ho fatto 540 550 chilometri e vengo quasi ogni anno ultimamente giriamo tutta Italia dalla Sicilia fino a Osta a Monte Bianco c'è anche il nostro amico che l'abbiamo incontrato a San Tropez lui parla solo inglese hallo ronnie Lockrey from A92 Vespa Club in Dundin Angus in Scotland e questo è Alan Warden from the Dundin Angus Vespa Club in Scotland diamo l'appuntamento anche per domani perché andrete avanti anche domani sì andremo domani domani ci sarà il club perché già abbiamo oltre 150 in rotazione che arriveranno in nottata e poi domattina presto questi che faranno 200-250 chilometri arriveranno tutti domattina poi c'è la classica sfilata per i miei cittadini e poi l'appuntamento con tutti questi ragazzi qui in Ungheria da giugno da 6 cioè da 3 a 10 che ci incontreremo là è importante appuntamento culturale venerdì prossimo a Civitavecchia a partire dalle 19 in cattedrale avrà infatti luogo un concerto della banda musicale della gendarmeria vaticana il concerto è stato organizzato dalla curia e dal parroco della cattedrale ed è inserito nel quadro delle manifestazioni in onore di Santa Fermina patrona di Civitavecchia ed Amelia e prosegue con successo alla chiesa San Giovanni di Dio in piazza Calamatta la rassegna Il potere del cinema incentrata sulla mostra fotografica dedicata al regista russo Andrei Tarkovsky e che ogni giorno propone interessanti iniziative domani a partire dalle 18 sarà proiettato il film di Donatella Baglivo Alda Merini La forza della poesia il film presentato da Vittoria Milano e Rodolfo Vitto rispettivamente presidente e coordinatore artistico dell'ASC Arco Spazio Cultura Ed era questa l'ultima notizia grazie per averci seguito ma restate con noi perché ora seguiranno le news di sport con Sport Time 24 quindi non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di programmi naturalmente di serata Arrivederci Buonasera e bentrovati a Sport Time 24 vediamo insieme cosa è accaduto in questo pomeriggio infrasettimanale di sport la CPC centra la prima finale di Coppa Italia della sua storia i rossi hanno impattato sullo 0-0 al Tamagnini contro la Vis Sez nel ritorno della semifinale grazie alla splendida vittoria per 6-1 dell'andata i portuali si sono qualificati per l'atto finale in programma a metà maggio contro il città di Paliano e ancora calcio anche nel giorno della liberazione ci sarà un test amichevole domani alle 10.30 alla Cavaccia di Allumiere si sfideranno Civitavecchia e CSL Soccer una gara che servirà soprattutto alla formazione di Marco Scorsini ancora in piena lotta per evitare di retrocedere mentre il gruppo di Daniele Fracassa ha già conquistato la salvezza da qualche settimana le due Civitavecchiesi si erano già affrontate la scorsa estate sempre alla Cavaccia a vincere fu il Civitavecchia per 1-0 con gol del solito Manuel Vittorini e passiamo alla palla nuoto a 5 giornate dal termine del campionato l'Enel SNC non è ancora sicura della salvezza in Serie A2 anzi se i Rosso Celesti dovessero continuare a non incamerare punti potrebbe essere risucchiati dalla lotta per evitare i play out fondamentali gli scontri diretti che però si giocheranno in trasferta il servizio dovrà ancora affaticare l'Enel SNC per conquistare la salvezza nel campionato di Serie A2 nelle ultime settimane il set di Marco Pagliarini ha visto ridursi da 9 a 5 i punti di vantaggio in confronti del terzo ultimo posto il primo che porta a doversi giocare i play out al momento l'Enel SNC si trova al sesto posto della classifica del Giove Nord con 19 punti con solo una vittoria nelle ultime 5 gare sicuramente ad incidere nella situazione del calendario non favorevole per Romiti e compagni ma anche le assenze e le situazioni extravasca che hanno permesso ai civili vecchiesi di affrontare al meglio le ultime partite ora però serve un'inversione di tendenza anche se rientra dalle vestività pasquali i rosso celesti si troveranno di fronte la capolista Torino al Palagalli negli scorsi mesi l'Enel SNC ha giocato un brutto scherzo alla prima classificata di allora ovvero l'Ancona grazie al godo decisivo ad un secondo dal termine di Taraddei ma la sensazione è che gli uomini di Aversa siano in una calatura superiore rispetto a quelli di Pace quindi massimo impegno con i piemontesi ma la sensazione è che le sfide fondamentali per ottenere la salvezza saranno in trasferta a stretto giro di posta visto che si giocheranno a distanza di una settimana contro Brescia Votapola e Crocella Stadium i Lombardi sono penultimi mentre la formazione di San Pierdalena stazione in terz'ultima posizione proprio quella cardine per determinare se i rosso celesti saranno salvi oppure no meglio assicurarsi la salvezza in quelle partite per evitare di vivere un finale di stagione problematico anche considerando la termedia bassa di una squadra che dal punto di vista psicologico potrebbe pagarne le spese inoltre dopo aver disputato diverse gare con una formazione rimaneggiata a causa delle numerose assenze ora mister Marco Pagliarini spera di poter beneficiare di tutta la nostra disposizione per questi incontri cruciali anche per dare una pronta disposta dopo le ultime sconfitte sicuramente l'atteggiamento mostrato in alcune gare come quella di Lavagna con l'Enel e la SNC ma in partita non è quello giusto per conquistare la salvezza ma anche per riporre qualche speranza in un campionato di alta classifica nella prossima stagione in cui con i ragazzi più giovani bisognerà raccogliere i frutti di quanto seminato quest'anno ed ora passiamo al karate nemmeno il tempo di riposarsi dopo il circuito agonistico nazionale terminato con gli italiani di Conegliano ed ecco che la Magic Can è pronta a dare manforte al team della nazionale per la prima uscita internazionale della stagione in programma a Londra nel prossimo fine settimana presenti Lorenzo De Rosa e Lara Coluzzi entrambi si cimenteranno nel Cata Juniors la selezione azzurra sarà guidata dal maestro Stefano Pucci responsabile federale per le attività internazionali e concludiamo con una notizia di atletica ci saranno anche due atleti della Tirreno al trofeo Croce Santa riservato alle rappresentative ragionali di varie categorie giovanili nella manifestazione che si svolgerà il primo maggio ad Offida in provincia di Ascoli sono stati convocati dall'Affida al Lazio Sara Pontani per le ragazze e Leonardo Dolci tra i ragazzi bene era questa l'ultima notizia di questa edizione di Sportime 24 vi ricordo che dopo la sigla Andrea Inonda il meteo buon proseguimento di serata grazie a tutti